carissimi amici youtubers buongiorno ho pensato di fare questo video annunciativo per questa sera per ricordarvi l'appuntamento era diretta che non l'ho mai fatto di sabato ma è una diretta particolare un bel tempo alla noga ma vengo subito al sole la colonna sonora non sarà allegra però secondo me sono un compositore e ho pensato appunto di fare questo video con una colonna sonora eseguita da me per annunciarvi quanto sia volevo ricordarvi la diretta di questa sera alle ore 20 bar 20 e 10 in quanto prima ho la celebrazione in chiesa anzi in cattedrale dalle 5 alle 18 e 30 e non sapendo quanto dura la celebrazione poi ho anche diverse cose qui in casa tra cui preparare il pasto per mio padre e cercare di ingorgitare qualcosa anch'io per la speranza di tenerlo giù con la speranza di tenerlo giù e dopo passerò allo studio 1 per la trasmissione Nella quale annuncerò la mia decisione finale sulla vita del mio canale che ho costruito con sacrifici, dedizione, applicazione e voglia di fare. Ma purtroppo circostanze smavorevoli che non augura nessuno mi hanno costretto a prendere una via, però la saprete solo questa sera, guardando la diretta delle ore 20, parla 20.10. Vi lascio solo gli ultimi istanti perché non farò un video di più di 5-7 minuti, comprese le sigle, quindi di ascoltare solo questa colonna che è un prelugio della trasmissione di questa sera. Grazie a tutti. Il video termina qua, infatti ho superato i 5 minuti, la croce ce l'ho sempre con me, spero che nessuno, scusate il regolo un attimo, ecco, l'avevo passato per farvi giusto vedere la tastiera, le tastiere, e spero che nessuno ce l'abbia con me perché ho questa croce al con, rispetto a tutte le religioni, quindi io vi ringrazio veramente per tutto ciò che avete fatto per me e questo breve video è solo un prelugio di quello che ci sarà questa sera in ore 20, parla 20.10 in trasmissione, la diretta sarà breve, all'incirca mezz'ora, tre quarti d'ora e poi saprete quello che ho deciso. ma siccome siamo sotto Natale, ormai mancheranno una settantina di giorni, volevo lasciarvi con questa piccola autocomposizione che ho fatto, naturalmente è originale però. grazie a tutti 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 grazie a tutti